Un uomo di 59 anni, di origini pugliesi ma residente in Germania, è morto mentre era in mare questo pomeriggio alle 14.30, sulla spiaggia di uno stabilimento balneare alla periferia di Margherita di Savoia, a causa molto probabilmente di un malore. I nulli sono stati tentativi di rianimarlo, prima dei bagnini, poi del 118 di Margherita, intervenuto sul posto.